Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dello shop Qui e ecco lo shop Speriamo ci sia una mua skin Oppure un ballo Non sarebbe male E invece no Tornato a cuore di pietra Niente male, niente male Ha due stili, uno senza coda e l'altro con la coda Bello, bello sul zainetto Aspettate No, non finisce qua infatti Questo non c'ha la coda però Va bene Lo zainetto squalo Questo è davvero ganso Molto bello Niente male Azzo Tre stili Aspetta che cambia dal... Ah, capito Con la coda e senza coda Ok Aspettate c'ho altre cose Il piccone Ah, anche la skin femminile Questa è davvero bella Il piccone Lui l'ho già fatto vedere Testa d'aria 1200 Senza zainetto Ricognitore della giungla 800 Ci sta Germoglio di sole Per 200 Va benissimo E' rimasto spaccapugno di Hulk Lo shop di oggi finisce qua Al prossimo shop Buongiorno 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 Grazie a tutti.